Vessava la zia da oltre un anno, la minacciava di morte, l'aggrediva e la intimidiva per ottenere denaro. L'incredibile vicenda è stata scoperta dai carabinieri di Piraino che al termine dell'attività investigativa coordinata dalla procura di patti hanno arrestato un 49enne con le accuse di atti persecutori, ingiurie continuate, maltrattamenti e tentata estorsione. Secondo i riscontri investigativi la storia andava avanti dall'agosto dello scorso anno. L'uomo ha iniziato ad avere problemi economici e ha cominciato a perseguitare la zia con continue e sempre più pressanti richieste di denaro. La donna è piombata in un vero e proprio inferno, presa di mira dall'uomo che riusciva a spillarle fino a 700 euro ogni mese. Una situazione che ha costretto la donna a vivere in un perdurante stato di ansia e di paura, spingendola persino a trasferirsi da casa propria e chiedere ospitalità a parenti. La recrudescenza delle vessazioni accompagnate nell'ultimo periodo da minacce di violenze con bastoni e persino con una pistola, poi rivelatasi giocattolo, hanno quindi spinto la donna a denunciare tutto ai carabinieri. Dalle indagini condotte dai militari dell'arma è quindi emerso, come anche negli anni precedenti, l'uomo si era reso protagonista di simili condotte, prendendo di mira i genitori che però, sperando nella fine dell'incubo, non avevano mai denunciato il figlio. L'uomo, su disposizione del tribunale di patti, è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari.